Non so cosa fare, mia mamma ha trovato un nuovo fidanzato, ma lui beve da cattivo con me. Ieri sera è entrato in camera mia, ha iniziato a urlarmi contro che mi odia, mi faccio schifo, poi mi è picchiato. E io ho paura perché so che stasera torna. Ho provato a parlarne con mia mamma, ma dice che lui ha fatto così, che lei lo ama e non vuole che la lasci. Grazie a tutti.